Nunc et inora mortis nostre. In il latino suona meglio, soprattutto quando l'Ave Maria viene cantata. Sembra allora che la corrente melodica dilaghi in un estuario di tenerezza e concentri nelle ultime quattro parole le più sanguinanti implorazioni dell'uomo. Adesso è nell'ora della nostra morte. Anche in italiano non è da meno, soprattutto quando, irrompendo le ombre della sera, l'Ave Maria viene recitata dal popolo dei poveri nei banchi di una chiesa con le cadenze del rosario. Sembrano cadenze monotone, ma dal centro di quelle scarne parole si sprigionano viluppi di sensazioni intraducibili che non si capisce bene se ti spingano sul discrimine che separa il tempo dall'eterno o ti arretrino invece negli spazi di un passato remoto carico di ricordi. Certo è che man mano che quelle parole vengono ripetute, la mente si affolla di immagini dolcissime, tra le quali predomina l'immagine di lei, l'altra madre, che nelle sere d'inverno, vicino al ceppo acceso o sotto le stelle nelle notti d'estate, attorniata dai familiari e dai vicini di casa, ripeteva con la corona tra le mani, Santa Maria, Madre di Dio. Sembra che alla Madonna non si sappia chiedere altro, prega per noi peccatori. Forse perché in fondo l'essenziale sta lì, tutto il resto è corollario di quell'unica domanda, ed ecco allora per 50 volte la stessa supplica struggente. Adesso è nell'ora della nostra morte. Viene da chiedersi comunque perché mai l'Ave Maria essenzializzi a tal punto l'implorazione da ridurla a una sola richiesta. Le ragioni possono essere due. Anzitutto Maria è esperta di quell'ora, perché fu presente all'ora del figlio. Ne visse cioè da protagonista la peripezia suprema di morte e glorificazione, verso cui precipita tutta la storia della salvezza. In quell'ora Gesù le ha consegnato i suoi fratelli simbolizzati da Giovanni, perché li considerasse come suoi figli. Da quel momento lei è divenuta guardiana della nostra ultima ora e si rende presente in quella frazione di tempo in cui ognuno di noi si gioca il suo eterno destino. Il secondo motivo sta nel fatto che l'ora mortis è un passaggio difficile, un transito che mette paura per quella carica di ignoto che si porta incorporata, una transumanza che sgomenta, perché è l'unica che non si può programmare nei tempi, nei luoghi e nelle modalità. È come affrontare un'esile passerella di canne che oscilla sul vortice di un larghissimo fiume pronto a inghiottirti. Di qui il realismo della preghiera, ora pro nobis, nunc et in ora mortis nostre. Tu cioè che sei esperta di quell'ora, dacci una mano, perché ognuno, quando essa scoccherà sul quadrante della sua vita, l'accolga con la serenità di Francesco d'Assisi. Laudatesi, mi signore, per sora nostra morte corporare, dalla quale nullo omo vivente può scappare. Santa Maria, donna dell'ultima ora, quando giungerà per noi la grande sera e il sole si spegnerà nei barlumi del crepuscolo, mettiti accanto a noi, perché possiamo affrontare la notte. È un'esperienza che hai già fatto con Gesù, quando alla sua morte il sole si eclissò e si fece gran buio su tutta la terra. Questa esperienza, ripetila con noi, piantati sotto la nostra croce. E sorvegliaci nell'ora delle tenebre, liberaci dallo sgomento del baratro, pur nell'eclisse, donaci tra salimenti di speranza, infundici nell'anima affaticata la dolcezza del sonno. Che la morte comunque ci trovi vivi. Se tu ci darai una mano, non avremo più paura di lei. Anzi, l'ultimo istante della nostra vita lo sperimenteremo come l'ingresso nella cattedrale sfolgorante di luce, al termine di un lungo pellegrinaggio con la fiaccola accesa. Giunti sul sagrato, dopo averla spenta, deporremo la fiaccola. Non avremo più bisogno della luce della fede che ha illuminato il nostro cammino. Ormai saranno gli splendori del tempio ad allagare di felicità le nostre pupille. Fa, ti preghiamo, che la nostra morte possiamo viverla così. Santa Maria, donna dell'ultima ora, il Vangelo ci dice che Gesù, quando sulla croce mise lo spirito, reclinò il capo. Probabilmente, come molti artisti hanno intuito, il suo capo è chi lo reclinò sul tuo. Nello stesso atteggiamento di abbandono di quando, ancora bambino, lo coglieva il sonno. Ritta sotto il patibolo, forse su uno sgabbello di pietra, diventasti così il suo cuscino di morte. Ti preghiamo, quando pure per noi giungerà il momento di consegnarci al padre, e nessuno dei presenti sarà in grado di rispondere ormai ai nostri richiami, e sprofonderemo in quella solitudine che neppure le persone più care potranno riempire. Offrici il tuo capo come ultimo guanciale. Il calore del tuo volto, in quell'estremo istante della vita, evocherà dalle tombe mai aperte della nostra coscienza un altro istante, il primo dopo la nascita, quando abbiamo sperimentato il calore di un altro volto, che rassomigliava tanto al tuo. E forse solo allora, sia pure con le luci fioche della menente che si spegne, capiremo che i dolori dell'agonia altro non sono che travagli di un parto imminente. Santa Maria, donna dell'ultima ora, disponici al grande viaggio. Aiutaci ad allentare gli ormeggi senza paura. Sbriga tu stesso le pratiche del nostro passaporto. Se ci sarà il tuo visto, non avremo più nulla da temere sulla frontiera. Aiutaci a salatare con i segni del pentimento e con la richiesta di perdono le ultime pendenze nei confronti della giustizia di Dio. Procuraci tu stessi i benefici dell'amnistia, di cui egli largheggia con regale misericordia. Mettici in regola le carte, insomma, perché, giunti alla porta del paradiso, essa si spalanchi al nostro bussare. Ed entreremo, finalmente, nel regno, accompagnati dall'eco dello Stabat Mater, che con accenti di mestizia e di speranza, ma anche con l'intento di accaparrarci anzitempo la tua protezione, abbiamo cantato tante volte nelle nostre chiese al termine della via crucis, quando corpus morietur fac ut anime donetur paradisi gloria. Amen.